Appuntamento con le previsioni del tempo su informazioni dell'area previsioni meteo della protezione civile della regione Campania. Sull'Italia prevalgono condizioni di tempo perturbato, una nuova perturbazione atlantica determinerà un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali. Nello specifico in Campania, martedì 6 novembre, il cielo sarà generalmente velato con locali annuvolamenti ma con scarse probabilità di precipitazioni. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare e potrà essere associata ad isolate precipitazioni sulla fascia costiera. I venti ispireranno generalmente moderati meridionali, il mare si presenterà generalmente mosso. E chiudiamo con le temperature che diminuiranno nei valori minimi mentre le massime subiranno un lieve aumento. La visibilità tenderà a diminuire sulle zone montuose. Bene, con questo è tutto, a me non resta che augurarvi un ottimo proseguimento di serata.